benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e oggi siamo qua con la corazzata tier 9 italiana l'epanto una nave che molti di voi già conoscono perché magari l'hanno trovata in qualche pacchetto fortunato nei mesi precedenti ma per chi invece ha preferito la via normale del rilascio navale ce l'ha magari a disposizione solo da pochi giorni oppure la sta ancora rincorrendo all'interno del tick tree della regia marina siamo qui praticamente su sleeping giant classica portia domination a diamante guardate un po' sleeping giant è una mappa estremamente tecnica scommetto che se alcuni di voi scommettessero sul risultato di questa partita guardando anche solo le navi che ci sono nella nostra squadra direbbe blizzard questa la vinci a mani basse guardate un po' cronstad drake musashi soyuz missouri alcune delle più potenti unità del tier 9 sono tutte dal nostro lato preparatevi al peggio questa mappa comandanti è sempre molto difficile perché la mappa è estremamente tecnica e quando incontrate i particolari giocatori delle random battle tutto diventa più difficile ovviamente noi lasceremo perdere la soyuz l'alsas il crosta che andranno a tonni a esterno e cercheremo di subito di dare assistenza al frisland alleato perché è un giocatore dei fro e quando trovate giocatori di un clan di lega uragano come voi un compagno di merende bisogna sempre dare una mano ai vostri soci perché è l'unico modo per cercare di dare una parvenza di gameplay all'impatto comandanti è una corazzata mai esistita quindi a tutti gli effetti un progetto ma questa comandanti non è la vittorio veneto questa è una piccola grande chicca all'interno del ramo navale italiano e a noi è veramente piaciuta un sacco è molto più resistente è molto più cattiva è molto più battleship tra l'altro se potete vedere dalla sovraimpressione andiamo a bordo la bandiera di goodman la bandiera del gatto e quando c'è questa bandiera a bordo delle corazzate è un valore aggiunto alla nave anche se statisticamente non è riconosciuto siamo subito assistenza al frisland potete vedere oster glota in avvicinamento nemico guardate subito questi cannoni a 10 circa 10 chilometri la vittoria veneto avrebbe prodotto e mandato a zanzare i colpi guardate invece questa con un lampo di secondo quattro colpi a segno io stavo piangendo è stata la prima salva con l'abito gli stavo piangendo per dire forse questa spara dritto 75900 hp a bordo con un interessante fasciame da 350 che protegge il lato ma è una compratura straordinaria che poi vedrete nel dettaglio del post partita e il 46 per cento di danno riduzione su tor veramente molto buono qui siamo rimasti abbastanza scioccati perché subito il nostro entusiasmo è caduto nella zona più basse dopo aver visto questa salva ap passiamo ap si atto il broadside cittadella galleggiante guardate il colpo come si apre due overpen tutto quello a cui sparano le batteship italiane sopra i 14 chilometri è come tirare dei dadi alla roulette non sai mai se esce rosso nero o potrebbe addirittura schizzare fuori la pallina dalla roulette non si sa mai comunque noi accorciamo ancora perché il free zone ha bisogno di uno spot incostante per fare danno perché non può andare a spottare le navi a cui spara anche perché altrimenti rischierebbe perché è una nave particolarmente lenta e non ha i sciluri quindi può solo contare sullo spot ingallato per sparare dal fumo guardate com'è aggressivo il free zone dei fro che sta chiaramente a giocare entra praticamente in river cerca di spottare con l'idroacustica lo stagolta l'annemico e cerca di fargli la festa torniamo ovviamente alle ap perché vogliamo cercare di un po' di capire se sono come pacchiane come nel 20 ore 20 sono un pochettino migliori come potete vedere purtroppo le ap italiane si confermano essere delle grandi paccate comandanti la stessa intanto ha trovato la kill sul siatto disperato che faceva delle manovre assurde e noi chiaramente torniamo al nostro proiettili sap la velocità della nave 28 nodo e nezzo non benissimo ma nemmeno male direi più che decente per una tier 9 con un timone che gira di 910 metri con un tempo massimo di risposta del vostro del vostro rudder di timoni timoneria in 16 secondi e 7 per quanto riguarda lo suo spot in full lata e avvistata via acqua circa 13 chilometro 800 metri e via acqua circa 10 chilometri qua entrano in azione le nostre secondarie spariamo ovviamente con le sap sulla fiancata del dello stegotra ne lo troviamo una cosa importante a dire in questo video comandanti molto importante non abbiamo utilizzato dei dai su questo skill setup del comandante che vedete poi a fine video non c'è dei dai attivo questo perché perché come sapete lo dico sempre dal mese prossimo con il rilascio della patch 0.10.4 le dai scomparirà di conseguenza è inutile giocare una nave con una skill che non ci sarà più anche perché questa è in tutti gli effetti la nostra recensione della nave non voglio che sia fittizia o inveritiera solo perché poi questa skill scomparirà la nave cambierà nelle sue prestazioni restiamo con le sub decidiamo di dare un saluto all'incrociatore pesante sovietico un po sab ovviamente cercate sempre di sparare sul ponte per cercare il massimo danno evitate sempre di tirare sullo scafo meno che non sia effettivamente un destroyer o un incrociatore estremamente leggero questa nave comunque a 96 mm di penetrazione come tutti 381 italiani l'unica corazzata in grado con i sub di penetrare oltre i 100 mm la vittoria vento perché appunto hai un calibro superiore ai 400 come potete vedere la situazione è piuttosto precaria sulla sinistra le nostre quattro navi cinque stanno venendo completamente imbarcate nonostante abbiano la missuri con radar e la musashi che è un mostro del tier 9 controllano anche il cap e stanno praticamente massacrando tutto il nostro fianco sinistro da questa parte noi siamo troppo lenti nell'ingaggio e stiamo facendo estremamente fatica a tenere il passo della scuola amica è molto più aggressiva nel push come andati per quanto riguarda i canoni di questa nave mentre il freezer anna fonda finalmente l'osterglotte nei 15 permetterà di conquistare il cap sono tre torri quadrinate da 381 mm finalmente queste torri da quattro disposizione delle navi della regia praticamente 32 secondi e 6 di ricarica con il modulo a bordo e un prendeggio torri di 34 secondi e mezzo direi più che buono praticamente sembra un cruiser pesante da battaglia il prendeggio delle torri è un po il marchio di fabbrica delle corazzate italiane per quanto riguarda la dispersione è orribile come era anche orribile sulla vittoria vento 18 chilometri 100 digitata 224 metri di dispersione a quella distanza è veramente robaccia però oltretutto comandanti con le sap è compensata in questo modo la work mi ha deciso così non possiamo farci assolutamente niente mentre l'alsassi e il kronstadt giocano praticamente a rincorrersi lungo la linea strana noi cediamo di entrare nel cap per cercare di spazzare via riga i zumo e anzi le due zumo il più presto possibile perché altrimenti la partita andrà nel dimenticatoio perché come potete vedere a sinistra ormai è caduta anche quel fesso con la musashi è stata affondata anche la missuri rimangono solo un povero stergotland e unibuki che ormai corre verso il cap dc e quindi solo questioni di secondi e di minuti prima che la squadra nemica non ci prenda completamente al fianco per cercare di conquistare anche la nostra zona centrale e il cap dc che ovviamente è il nostro inizio partita per quanto riguarda il danno come sempre 12.500 massimale di sap e 12.000 per quanto riguarda le ap è un'altra cosa che vi dico comandanti privilegiate sempre i proiettili sap cercate sempre di sparare con i sap noi in questi giorni stiamo giocando tanto la cristoforo colombo la recensione della tier 10 la vedrete sabato prossimo vedrete che sarà una recensione estremamente accurata perché la cristoforo colombo è qualcosa che non avete mai visto al tier 10 è una corazzata mai senza nessuno è uguale per adesso perché è una cosa molto molto particolare ma la vedrete la settimana prossima diciamo che questa nave comincia a dare quella che poi diventerà un marchio di fabbrica della cristoforo colombo al tier 10 guarda adesso le ap cerchiamo di trovare la zona centrale un angolo migliore possibile guardate un po le nostre ap sembrano perfette e invece 24 e 8 però niente cittadella però avete visto che quando riescono sempre a penetrare penetrano abbastanza bene sulla fiancata quello che manca è sempre lo stiamo detto colpo in cittadella che non arriva mai e sarebbe stato un colpo letale sull'izumo non che comunque cambi tanto perché come potete vedere l'izumo ormai è in fin di vita come avevamo visto il lato sinistro che è completamente ceduto comincia a cominciano ad arrivare i colpi da quella parte questo perché il nemico ormai è in pieno push dobbiamo velocizzare il tutto cercare di affondare in riga che la nave radar da questa parte per dare maggiore agevolezza al freeze run che è l'unica nave sul quale possiamo contare su questa fiancata guardate dove sono il cronstadt e l'alzà strato il cronstadt è un crociatore fortissimo a livello difensivo può giocare spesso in prima linea ma quel tizio probabilmente non lo sa per quanto riguarda l'anti-aira comandanti è veramente penosa è un'anti-aira infatti comandanti che purtroppo fa anche dei buoni numeri a media distanza ma hanno agitata troppo corta 4 chilometri 600 metri di getta massima con batterie da 20 37 90 millimetri comandanti c'è ben poco da parlare guarda il suo colpo interessante di sap sulla fiancata del riga guardate un po 1200 tre colpi addirittura il ricochet come dico sempre basta anche solo che la nave faccia un minimo un minimo di manovra in angolatura cioè si inclini leggermente rispetto ai preti all'ingola dei proiettili d'arrivo dei vostri proiettili e praticamente il colpo scheggia o scheggia o va in over pain o comunque non fa danni a meno che il bersaglio non sia completamente broadside o non sia fatto di carta come un mine or uno smolensk non troverete mai il colpo in cittadella ecco perché dovete usare quasi esclusivamente i colpi in in sap le secondarie comandanti di questa nave sono molto forti e molto forti a livello di gittata arrivano infatti a sfiorare gli 11 chilometri e lì superano questa questa gittata e di 11 di 18 12 9 nelle con la cristoforo con il problema comandanti che queste secondarie hanno la maggior parte delle torri armate a 90 mm il 90 mm comandanti è pessimo perché ha una penetrazione ridicola non riuscirete nemmeno a penetrare alcuni destroyer perché arriva tipo 15 mm di penetrazione potreste contare solo sulle stramaledette torri trinate da 152 che sono veramente l'arma in più delle secondarie italiane se guardate quella fiammata lì che vedete è proprio il colpo da 152 e sono quelli che fanno male sparano un 6 secondi 8 hanno un 7 per cento di fire chance e sono praticamente 9 cannoni per lato perché sono 6 3 torri da 3 per lato il problema è che è poca roba per impostare una nave solo su secondarie ecco perché il setup vi farò vedere a fine battaglia e ha tutti gli effetti un ibrido come avete visto dalla fiammata verde il fumogeno abbiamo sansonetti a bordo e preparatevi perché tra poco sansonetti attiverà anche il bonus di confid rate e questo permetterà un reload maggiore anche delle primarie poi comunque vi farò vedere la skill comandanti siamo praticamente in mezzo al casino abbiamo la georgia la lion che pushano kitakazi e la seconda lion a sinistra che viene in avanti oltre al fletcher che sta attaccando il cab di d purtroppo il nostro drake ci lascia perché era un fesso dove semplicemente spostarsi a destra dove c'è la sas adesso e sparare solo e unicamente di proietti incendiari ma il drake non l'ha fatto ha accorciato dando il bruciare dalla lion e la georgia bruttissima idea a questa distanza guardate come le nostre secondarie continuano a martellare il nemico però i danni sono pochi più che altro l'incendio che arriva ogni tanto questo perché perché appunto come dicevo prima sempre solo i 152 che sono fondamentali e i 90 mm è come se non facessero niente alle 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 nevi nemiche per quanto riguarda le capacità tante che sono enormi comandanti ma poi vi farò vedere nella scheda armatura a fine partita per quanto riguarda il resto l'abbiamo praticamente trattato le secondarie appunto da 90 a 152 mm l'avete visto 12 singole da 90 hai praticamente sei torri trinate tre torri trinate per lato da 152 mm guardate un po' la situazione ormai è precaria immagino che avrete capito come finirà la partita perché nemmeno io ragazzi con un con un giocatore dei throw in divisione che tra l'altro è appena morto posso ribaltare una partita sotto di di 300 punti considerando che ho praticamente due batteship sul lato una è appena caduta l'altra arriverà praticamente rimorchio tra poco il cross è stato assolutamente inutile in questa partita e come anche l'alsas poi vedete i risultati ecco il comfort occhio perché con il comfort salsonetti ricarica le canoni primari con il 15 per cento in meno di reload e questo vuol dire praticamente scendere considerando anche adrenali rush sparare ogni 23 22 secondi che con le sap è praticamente una chicca assurda cerchiamo di recuperare un po di punti vita ovviamente anche la lion al super per i parti inglesi come conoscete lo montano solo lei è il nelson e ovviamente la conqueror altre mazzate avete visto come comunque il colpo in sap anche quando colpite la nave che si cerca di angolarsi la nave di prua il male lo fa lo stesso cercate sempre le sovrastrutture in sap il danno lo farete sempre il vostro obiettivo è centrare il massimo del danno nella zona centrale del ponte nemico nella zona rialzata dove sono i torrioni è lì che dovete colpire è lì che dovete massacrare le navi nemiche ovviamente cerchiamo adesso la virata per andare poi in spinta verso di lei e quindi usiamo la cortina fumogena per non essere visti durante la fase di manovra dato che comunque mostriamo il broadside e ora spariamo come potete vedere quando spariamo ovviamente nemmeno la cortina fumogena può ripararvi ovviamente dovete considerare anche una cosa che ho detto prima quando sparate tanto su una nave nella zona centrale poi ovviamente i colpi i litbox vanno in saturazione cosa sono le litbox sono quelle zone della nave che registrano il danno che che la nave subisce e quando quelle queste vanno in saturazione ovviamente i comandanti fanno meno danno registrano meno danno guardate un po come assorbe abbastanza bene i colpi della lion nonostante fossimo quasi broadside l'armatura è incredibile la cittadella comandanti è praticamente semi sommersa anzi è a tutti gli effetti sommersa questo è un comfort pazzesco che poche altre navi possono vantare al tier 9 qui forse commettiamo un leggero errore ma ormai guardate un po mancano 150 punti stanno anche conquistando il nostro ultimo cap io volevo forse la cosa migliore da fare era cercare di finire la la lion a destra ma ero assolutamente sicuro che l'alsas ce la facesse e invece no l'alsas non riuscirà probabilmente ad affondare quella nave il crosstad è troppo staccato dalla formazione e quindi a questo punto che richiamo a testa bassa verso gli avversari andiamo pazientemente le secondarie che stanno facendo un casino assurdo sparano sia a destra che a sinistra ci proviamo andare a p per sparare sulla zoom come sapete è un incrociatore pesante specializzato negli incendi ma e non ha i siluri quindi a differenza dello yoshino nel combattimento ravvicinato è un grosso vendica per lui angolati guardate come riusciamo ad assorbire abbastanza bene anche i colpi del della lion inglese la zoom sembra prendere di mira più il crosstad che noi per adesso e non possiamo ancora tirarci contro perché nostra 381 inclinata così non garantirebbero minimamente il colpo in cittadella eccola che lei si allarga fa questa cavolata la zoom ha affondato il crosstad prepariamo a tirare il colpo di città in cittadella ecco che parte il colpo forse avremmo dovuto aspettare giusto un secondo in più per avere anche l'ultimo dietro arriva anche l'ennesimo bonus praticamente ormai comandanti la partita in chiusura possiamo anche mollare qua che sa dire comandanti vi faccio vedere praticamente lo score del scor singolo di fine partita perché non verremo affondati ma il finale avete visto sono 9 90 inutile dirlo 214 mila 101 colpi di primaria quasi 300 di secondaria quattro incendi diverse incapacitazioni conferred dreadnought e high caliber appunto perché ne ho portato a casa la pelle occhio al risultato di team perché è veramente spaventoso guardate le ultime quattro navi in classifica della nostra squadra musashi soyuz missouri il reparto battesci più importante mancava solo la genbart e poi praticamente c'erano tutte le più potenti corazzate del tier 9 sul fondo della nostra classifica è mancato totalmente il reparto battesci guarda dall'altra parte lion georgia le due lion che partita hanno fatto cioè e ovviamente poi vabbè il kitakaze ha capato un paio di base quindi è nato un po' a rimorchio però veramente noi il throw un po' il cross anche se poteva fare molto di più in questa partita e il resto non pervenuto la sas non è arrivata neanche a 900 punti nonostante abbia portato a casa la pelle giocatore troppo timido per giocare le corazzate questo praticamente è il setup skill moduli che ho selezionato è un setup puramente ibrido rotazione delle torri migliorata andiamo praticamente il moduli migliorati ho preferito questo piuttosto che il comandante lo skill che prevede lo switch dei proiettili questo perché giocando un po' più stretto contatto era più comodo avere la resistenza maggiore sulle torri però anche lo switch se avete sanzonetti a bordo è super consigliato e questo skill setup è probabilmente un esperimento comandanti era solo per giocare una soluzione ibrida e ignorare dei die però poi sulla crosta ferrocoloma abbiamo completamente cambiato le skill questo semplicemente era un esperimento però avendola giocata in questo modo volevo farvi vedere esattamente come l'abbiamo giocata l'ultima skill che magari non conoscete quella praticamente a sinistra di secondarie diminuisce dal 10% la ricarica delle secondarie e soprattutto quando una nave nemica è diciamo nella vostra prossimità ed è spottata e voi gli sparate contro con le secondarie aumenta concede un bonus che diminuisce praticamente la ricarica dei vostri canoni principali quindi è proprio la skill più potente per le secondarie però oggettivamente sulla le panto può anche avere un senso se la giocate così però una skill estremamente rischiosa e considerando che il vostro ranno principale di secondaria lo fate solo con i 152 le setup secondarie sulle batte scipitaliane non è poi tanto consigliato soprattutto sulla cristoforo colombo che verrà il sabato prossimo questa praticamente la che d'armatura è una roba complessissima proprio poppa da 32 sovrastruttura 19 ponte centrale da 55 a dir poco straordinario ed è quello che vi permette di subire così tanti colpi ok senza subire tanti danni 38 mm bassi con 50 di timoneria migliorata guardate la prua e la poppa bassa perché sono incredibili hanno praticamente addirittura una poppa da 200 mm che arriva da 80 e nella zona più 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 corta diciamo a prossimità quasi della torre di poppa davanti 80 e 60 è praticamente un fasciame continuo che gira tutto attorno alla nave 350 di cittadini di fasciame principale più basso rispetto alla vittoria veneto ma la chicca comandanti arriva adesso la cittadella guardate la cittadella vedete praticamente le due zone da 300 le ho segnate in maniera diversa perché se guardate attentamente è una finta turtle back non vi protegge bene come una turtle back tedesca ma è comunque una cittadella sommersa perché i 300 superiori non sono la cittadella è un fasciame di protezione a guscio che protegge la vera cittadella che è quella da 38 bassissima e quella da 300 che è già in zona sommersa quindi a tutti gli effetti è una cittadella che non supera la linea di galleggiamento ecco perché quando vi angolate riuscite comunque ad evitare il colpo in cittadella per cittadellarvi o dovete essere dovete essere full broadside oppure devono veramente sparare addosso con dei calibri potentissimi 510 460 457 già anche solo il 420 fa molto fatica a penetrarvi quando vi angolate è veramente una nave che dal punto di vista difensivo è da orgasmi comandante per quanto riguarda i pro sono tantissimi la leppanto è una grande nave armatura molto affidabile cittadella sommersa 12 cannoni disposti su tre torri finalmente le torri quadrinate lavorano in maniera molto molto più efficiente rispetto alle trinate buona protezione antitorpedo ottima ballistica eccellente brandeggio secondaria dalla lunga agitata con 6 torri trinate da 152 discreta in manovra cortina fumogena divertente da giocare immagino che l'avete visto tutti avrebbero voluto trovarsi in una partita del genere nel combattimento brawling le batte ci sono sempre più divertenti da giocare rispetto che semplicemente stare dietro e sparare ci chitando gli avversari almeno io lo trovo molto più noioso i contro ricarica che al massimo scende a 32 secondi e mezzo la ricarica è sempre un malus delle navi italiane lo sapete benissimo proiettile a piaf inaffidabile l'avete visto gittata massima limitata 18 e 1 aumentabile solo con l'aeroscout ovviamente scout fighter vi consiglio sempre lo scout abbastanza imprecisa l'avete notato antiera dalla breve gittata 4 chilometri 6 i 90 millimetri di seconda risultano totalmente inutili e l'avete visto facevamo danno solamente con i 152 e con gli incendi che sviluppavano i 152 per il resto comandanti il resto delle batterie secondarie fa tanto rumore ma non fa praticamente niente questa signora è la lepanto grande nave molto divertente facile da giocare molto robusta e paga anche tanto se riuscite a sparare bene con gli incrociatori italiani con il venezia il brindisi saprete sparare anche con questa perché il concetto è praticamente identico sopra il ponte sovrastrutture e giù a manetta cercate sempre di sparare con le sap evitate sempre gli api a meno che non sparate sugli incrociatori full broadside o sulle navi full broadside cioè in piena fiancata vostra con un angolo a 90 gradi perfettamente in linea con voi altrimenti evitate sempre colpo in api perché non troverete mai le città le troverete al massimo qualche danno di penetrazione come sull'izumo oppure i colpi andranno addirittura in overpen o se non peggio verranno praticamente scheggiati e quindi deviati come accaduto con il riga e con l'izumo in certe circostanze comandanti full sap sempre comunque con la lepanto e lo potrete anche con la cristoforo colombo spero che il video vi sia piaciuto spero che l'abbiate trovato comunque interessante vi ricordo che siamo online su twitch durante la settimana e vi ricordo che potrete anche se volete potete supportare il canale con amazon prime abbonandovi gratuitamente in maniera completamente gratuita rinnovate l'abbonamento se non l'avete già fatto perché non è automatico oppure datola a qualche altro creatore di contenuti di world of worship che supportate non fate mai non date mai via così il vostro prime cioè non 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 sprecatelo non dandolo a nessuno cercate sempre di aiutare i creatori di contenuti che sono piccolini e cercano di ottenere qualcosa da questa possibile e importante opzione di twitch per quanto riguarda noi ci risentiamo praticamente martedì probabilmente con un nuovo video della regia marina e vi aspetto sabato prossimo con la cristoforo colombo signori buon weekend e buona caccia